E siamo sempre qui dal campo degli arcieri bizantini di Ravenna con Tostola Marcello che è il vicepresidente appunto della società nonché consigliere la bellezza di riuscire a organizzare eventi di questo genere dove arrivano un po' da tutte le parti e la cosa bella che stavamo guardando adesso insomma fra un cambio di turno e l'altro scusami non si dice così la tranquillità, la flemma di queste persone, la pace che non è mai quello che si trova in qualsiasi altro sport perché magari c'è incitamento, c'è foga eccetera qui è tutto molto pacato, è bellissimo dovreste venire davvero a provare un giorno di gara Ecco verissimo quello che si prova proprio è quello che non si vede in realtà è proprio la cosa principale lo sconvolgimento che hanno gli arcieri nonostante sembra uno sport così semplice a vederlo dall'esterno però etico evolge molto emotivamente per cui quelli che vedete che passeggiano piano piano andando in là, ragazzini che vengono appunto da tutte le regioni in questo caso dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, qualcuno anche dalle Marche mi sembra, non ne sono sicuro oggi stanno confrontando nella sesta prova del quadrangolare Emilia Romagna del comitato regionale e sono col cuore che batte a mille perché è una cosa veramente difficile e soprattutto una cosa di testa, non è tanto una questione atletica perché nonostante tutti quanti pensano che il tiro con l'arco non sia uno sport faticoso ha bisogno di una buona preparazione atletica si può tirare anche facendo meno esercizio però i risultati che vengono poi sono relativi quindi ci vuole sia addestramento fisico che preparazione mentale all'evento che è comunque traumatico, è veramente difficile da affrontare specie per la giovane età Allora io qui poi non parlo soltanto con un responsabile di una realtà insomma qui a Ravenna ma parlo anche con un atleta un atleta che ha avuto anche dei notevoli risultati perché parliamo con il campione italiano allora com'è essere sul campo non dalla parte organizzativa ma dal punto di vista di atleta com'è viverlo d'atleta? Diciamo che vivendolo d'atleta dipende molto da quello che uno vuole fare perché c'è l'atleta veramente domenicale che prende da fare la garetta domenicale e allora la prende in maniera tranquilla come potrebbe essere una partitella di tennis tra amici in questo caso ti tira quattro frecce con gli amici perché si trova su campi in diverse città se la vuoi fare un po' più a livello agonistico come la facciamo noi qui almeno la parte degli atleti di Ravenna presume che tu porti via un sacco di tempo alla famiglia un sacco di tempo al lavoro tu ti prepari mentalmente con i materiali con i tempi giusti per arrivare all'evento che più ti interessa nelle migliori condizioni è logico che c'è la bellezza anche di confrontarsi con la realtà di tutte quante Italia sembra che ce ne siano poche perché la gente magari non conosce com'è il movimento ma in ogni città d'Italia ci sono una, due e anche tre compagnie a seconda di quante grande la città per la provincia qui da noi di Ravenna, Cesena, Faenza, Cotignola abbiamo una società in tutte quante le sedi diciamo e con un buon numero di atleti quindi noi come Emilia Romagna risultiamo la quarta regione in Italia come numero di praticanti al primo posto c'è la Lombardia, al secondo c'è il Veneto poi c'è il Piemonte e poi ci siamo noi quindi un buon bacino di utenza di atleti e tu come atleta perché adesso parlando con fuori dalle quinte con un'altra ragazza qui da Ceri Bizantini salutiamo Melania poi speriamo di intervistarla ci ha detto una bella frase che vogliamo riportare quando inizia a tirare poi diventa una malattia sì, è la famosa droga ma questo vale per tutti gli sport io vengo dalle arti marziali in primis ancora prima venivo dalla carabina però il tirasegno mi è rimasto sempre nel sangue sono tornato a questo sport qui che pensavo fosse molto poco dinamico finite le arti marziali aveva 35 anni non potevo più combattere e ho detto adesso cosa faccio ho provato il tiro con l'arco ho detto che c'è una componente mentale che è spaventosa ed è quella che dà il gusto del gioco nel senso riuscire a controllarsi è una cosa per riuscire a capire chi sei e cercare di controllarti nei momenti più difficili che è il vero giochino della situazione quindi, quindi invitiamo tutti a venire a provare io devo adottare questo sistema io ti ringrazio, so che devi correre perché ti aspettano grazie per la tua disponibilità in bocca al lupo per la gara ciao